Quanto misura una cellula? Ciao Focussini! Oggi parliamo di 5 cose che non sai sulle uova. Nella maggior parte dei casi, una cellula misura pochi millesimi di millimetro. Ci sono però delle eccezioni e una di queste è proprio il tuorlo d'uovo. Quello di struzzo può avere un diametro di 12 centimetri ed è una singola cellula. Per sapere se un uovo è fresco, c'è un metodo infallibile. Basta immergerlo in acqua. Se va a fondo, è tutto ok. Se invece sta galla, significa che la camera d'aria all'interno si è già sviluppata e l'uovo non è proprio di giornata. Le galline d'allevamento depongono circa 300 uova all'anno. Una bella cifra, ma niente in confronto alla femmina del merluzzo, che in una volta sola ne rilascia in acqua fino a 6 milioni. E il pesce luna arriva a 300 milioni. A Swaton, una cittadina inglese, si disputa ogni anno il campionato mondiale di lancio delle uova. Tra le specialità, il lancio sulla distanza, il tiro al bersaglio e persino la roulette russa. Ci sono 6 uova, ma solo 5 sono sode. A Napoli c'è Castel dell'Ovo, la più antica fortezza della città. Si chiama così perché, secondo la leggenda, sta in piedi grazie a un uovo nascosto nelle segrete. Se si dovesse rompere, l'intero edificio crollerebbe come un castello di carte. Ricordatevi di mettere un bel like e condividete il video con almeno due amici. Grazie. Grazie. Grazie.